Ciao, sono Davide Mosconi, l'autore di Flash Art in Tour, che partirà dal 1 settembre 2014 con la prima tappa dalla città di Lucca. Volevo fare un annuncio rivolto ai gestori dei locali, perché questo tour sarà finanziato solamente con le opere che io produrrò di giorno in giorno e quindi che mi daranno la possibilità di andare avanti di città in città. Il messaggio che vorrei lanciare ai gestori è questo, dei locali, dei bar, che praticamente è a costo zero. Mi piacerebbe essere ospitato da loro, magari soltanto in uno spazio all'aperto dove io mi posso esibire e questo qui sarebbe sicuramente una cosa interessante anche per voi, perché potete organizzare un evento a costo zero e che potrebbe sicuramente attirare nuove persone, una nuova clientela. Quindi spero che questo messaggio sia gradito e ci rivedremo dal 1 settembre a partire da Lucca. Potete contattarmi attraverso le comuni di Facebook, Twitter, Youtube e Instagram con il nome di Flash Art in Tour oppure attraverso la mia email mosconi.david.gmail.com Ciao, a presto!